Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello ci sarebbe meno pensieri e meno pena e il mondo ne sarebbe a stare più bene. Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi, allora vorrei ricordarne che lei di questo si deve occupare.